Una distesa di circa 20 chilometri che si incugna verso l'interno per una profondità massima di 5. Sono le saline di Margherita di Savoia, vera e propria riserva naturale. Alle mie spalle c'era una volta, ma c'è ancora oggi, la salina più grande d'Europa. Per estensione, per produzione, e lì, alla fine di quel lungo ponte, ad una profondità tra i 7 e gli 8 metri, ci sono tre idrovore che pescano, pensate, 4.500 litri di acqua al secondo. Quell'acqua viene incanalata, portata sotto il ponte ad attraversare la strada, e alla mia destra, là dove c'è quella casetta, liberata nel suo grande percorso che di là comincerà. Prima di raccontarci però della salina, di questo processo di salinazione e della riserva naturale, tutta la salina è una riserva naturale, potremmo provare a comprendere meglio perché la salina è proprio a Margherita di Savoia. Se dicessi perché c'è il mare riduttivo, ma in verità quel mare è diverso da quello un po' più a nord e un po' più a sud. È un mare un po' più salato, grazie al promontorio del Gargano che lo protegge dalle correnti marine più fredde e grazie proprio a quel Gargano si ha una presenza quasi costante di venti. Ci espone con la sua punta a 12 gradi precisi rispetto a tre ventilazioni, Gregale, Maestrale, Vento d'Africa, che sommati ai venti che ci passano normalmente fanno sì che il vento a Margherita è una componente comune. Non è sufficiente perché attraverso la telecamera non si potrà sentire, ma noi sì, c'è un odore davvero molto particolare, tipico della nostra zona umida, l'odore del fango, un fango salso-bromoiodico dai poteri curativi e questo fango è uno dei principi su cui si basa la presenza della Salina Margherita. Essa sorge su quello che un tempo fu il lago di Salpi per lo straripamento di fiumi pugliesi che portarono a valle non solo acqua ma anche detrito e fanghi e per la vicinanza del mare che ha sversato ha creato un grande lago salato. Quindi vento, mare salato, fango ma ancora una posizione straordinariamente favorevole che non è solo pianeggiante ma immaginate la sedina più grande 20 chilometri di lunghezza per 4 di larghezza ha un dislivello di circa poco meno di 2 metri tale da aver consentito a metà del Settecento a un grande ingegnere architetto idraulico Van Mitelli per incarico dei Borboni di applicare i vasi comunicanti. È così che l'acqua compie il suo viaggio ancora oggi attraverso un semplice sistema di paratie e di uomini di lavoratori che alzano e abbassano queste porticine di legno. La salina con i suoi 4.000 ettari di specchi d'acqua si divide in due grandi parti la zona evaporante con 3.500 ettari altro non è che la zona umida la più grande dell'Italia centro-meridionale è la zona salante il cuore produttivo solo 500 ettari. Nella zona evaporante nella nostra zona umida quindi abbiamo varie tipologie di piante che la vivono è di uccelli piante tutte alofile amanti del sale e la più importante di esse quella alle mie spalle la salicornia un salicornito immenso che in autunno si veste di rosso corallo e uccelli più di cento diverse specie che popolano questa riserva uccelli stanziali come i fenicotteri svernanti nidificanti estivanti o quelli che ci usano semplicemente come una piazzola di sosta la nostra zona umida protetta dalla convenzione di Ramsar come tutte le zone umide offre possibilità di vita a variate tipologie di uccelli i quali riescono a vivere pacificamente fra di loro proprio perché ognuno di essi in base alla conformazione alla tipologia del becco trova il cibo in un punto diverso dall'altro le famose nicchie ecologiche alle nostre spalle i fenicotteri uccelli stanziali monogami molto alti e dai colori meravigliosi che prendono dal crostaceo di cui si cibano l'artemia salina un crostaceo che si nutre di un'alga rossa chiamata dunaliella e che rilascia il suo beta carotene la famosa catena alimentare oltre ai fenicotteri avocette volpoche falchi germani è una serie infinita per arrivare ai corrieri e ai piropiro gli uccelli più piccoli della nostra salina ma i più furbi capaci di mettere in atto la tanatosi per poter salvare la propria vita il lungo viaggio che l'acqua di mare compie all'interno delle vasche della salina è davvero un viaggio molto lungo lento solitario che parte dalla zona evaporante nella prima zona perderà gli ossidi e poi i carbonati e poi i solfati compreso il solfato di calcio quando la sua densità raggiunge più o meno i 18-20 gradi e solo quando ha raggiunto i 25 gradi bumè che potrà entrare nella parte più piccola nel cuore palpitante della salina chiamata zona salante dove proprio qui si ripete ogni anno davvero il miracolo della vita le saline sono una delle aree più interessanti dal punto di vista ambientale che con la sua estensione di circa 4.000 ettari le rendono una delle aree più vasta d'Italia a Grazie a tutti.